Grazie a tutti. Grazie a tutti. Doveva andare via. Quello bambino che era amico di mio figlio non è voluto andare con mio figlio. Se mi si andava in maniera con me io non lo volevo. Questo bambino era un bambino o un ragazzo? Un bambino era che amico di mio figlio. Cioè quanti anni aveva? Mio figlio aveva otto anni. Un compagno di scuola era un compagno di scuola? No, no, erano vicini di casa. Erano soltanto degli amici? Sì, vicino di casa. Come si chiama? Non ricordo il nome, non mi viene per il momento. Ma lo posso dire. Se lo ricorda poi me lo dirà. Dopo c'è un ragazzino che fa. Non voleva andare via con mia moglie. Io dice me ne vengo con lei, signor Totuccio. Comunque mi è convinto. Mia moglie aveva partito circa mille metri, mille e cinquecento metri avanti. Mentre io faccio da Ciaculli arrivare verso via Conte Federico, via Miro Jaffer, passo da Ciaculli verso via Miro Jaffer, contro un cento ventisette, con sopra a bordo il Pino d'Angelo. Questo io lo vedo perché è brizzolato, lo so passo, lo saluto e questo rallenta. Mi ha fatto un po' già di soprassalto. Quando io arrivo sopra il cavalcavia... Insomma, l'ha dato sospetto questa presenza del Pino d'Angelo? Sì, sì, mi ha tirato un po'. Quando io arrivo sopra il cavalcavia... Ma per quale motivo? Perché questo mi fa soppassare, mi saluto e Sanione che dice a Ciaculli, è pure un modo onore. Io da vecchio lupo penso che qualche cosa in giro c'è. Subito mi ha tirato l'attenzione. Si è insospettito. E Sanione l'ha borgato, non è di là. Io lo soppasso lui da solo. Mentre io lo soppasso, arrivo sopra il cavalcavia di via Miro Jaffer, di fronte a me c'è un palazzo, quarto o quinto piano che arriva. Ci sono tre palazzini, uno dietro l'altro. Lei ha imboccato il cavalcavia. Da Ciaculli verso via Miro Jaffer. C'è il cavalcavia che si passa sopra l'autosciata. Mentre io sono il cavalcavia, sono il cavalcavia. Già io marchio di quella macchina che ho superato. Mia moglie è avanti con la sua macchina, no? Sua moglie si è andata per contro tu. Si è avanti. E io ho il bambino in macchina, questo ragazzino amico di mio figlio. Quando arrivo in questo attimo, io vedo nel palazzo, l'altra volta nella dichiarazione è confusa perché c'è detto dietro la finestra. Non è finestra, è una veranda tutta a lungo di Veccio. È una veranda? C'è una porta tutta a Veccio, perciò lo vedo abbastanza bene. Il signor Enzo buffa, messo dietro la finestra con la radiolina, perché ce l'ho così come di qua da lei. Ce l'ho bello, è lui alto, lo vedo abbastanza bene. Sulla mia sinistra c'è la proprietà del signor Veccio e Filippo. Che distanza ci può essere tra quella... Cavalcavia? Sì, dal Cavalcavia. Ma neanche 20 metri, 25 metri. 20-25 metri. Sì, è là. Sulla mia sinistra c'è il giardino che si scende dal qua e c'è la discesa dal ponte. Sulla sinistra c'è un cancello in ferro con tutte le varie. E c'è Mario... Sulla mia sinistra. Sulla sinistra c'è un cancello di ferro. E la campagna. E c'è Mario Pescio e Filippo. E la campagna? La campagna. Ah, la campagna. C'è Uedino e Pescio e Filippo. E vedo Mario Pescio e Filippo, dietro il cancello. A questo punto io che vedo? Mario Pescio e Filippo qua. Vedo questo qua. Com'era questo Pescio e Filippo? In piedi? Era a me su c'era il portone e c'è il bar. Lui aspettava che c'è un via e c'è. Era dietro le sbarre? Sì. No, dico, la figura com'era? No, normale, lo vede benissimo. Lo vede benissimo. Cioè in piedi? Sì, sì, in piedi, in piedi. Era appoggiato alle sbarre? Appoggiato a cancello. Perché aveva l'occhio vivo di dare la segnalazione a quello signor Buffa che arrivavo. Perché? Perché la motocicletta che è uscita è uscita dal garage del signor Buffa. Sotto il palazzo c'era la motocicletta grossa che esce. Poi c'è Lucchese e Pino Stelpuzella. Lucchese portava la moto e Pino Stelpuzella era messo di dietro. Appena mi arrivano, che io arrivo con la macchina qua, loro mi tagliano l'asciata e vengono davanti. Mi diranno la prima raffica. Io mi buttavo... Aspetta, aspetta, aspetta. La concitazione però spiegabilissima. Comunque, lei ha visto il Presti Felice e ha continuato la marcia. Sì, ma già sono nella discesa, perché qua si scende piano, che c'è un incrocio. C'è un incrocio che si vorrebbe andare verso la d'Arcalanza. Sì. Perciò io quando scinevo l'Europa, scinevo il garage. E questa motocicletta proveniva da dove? La motocicletta viene dove c'è il signor Buffa, l'ultimo piano, sotto c'è il garage. La motocicletta ne esceva perché è un vicolo cieco. Esce dal garage, perciò era tutto tramite il radio fatto il lavoro. E questo Buffa, lei l'ha visto che aveva... Sì, il Buffa era dietro, aveva già da sopra. Sì, questo l'ho capito. E questo è il padrone del palazzo, e lui c'è l'appartamento all'ultimo piano. Aveva una radiolina in mano? Cioè qualche cosa che... No, 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 è in cuffia, la radiolina è proprio in mano. Perché del radiolina me lo intendo, io fai il contrabanniere. E riconoscio pure il schermo insieme. Quindi, secondo lei, questa motocicletta era una motocicletta di piccola cilindra? No, no, era una grande motocicletta arrivata senza rumori. Era una grossa motocicletta? Grossa motocicletta. Grossa motocicletta che è arrivata senza fare molte rumori. Siccome l'occhiesetto per natura è piccolo, era o è piccolo, perciò sopra la motocicletta ci stava... non ero un pilota buona per la motocicletta, perché la motocicletta l'avevo pure, ci voleva appoggiare i gambe per uno. Per una motocicletta grossa è uno piccolo, non va bene. Comunque, quando loro sono usciti, io vedo questo, l'occhiesetto era amico mio pure, la vecchia data. Quando mi viene di fronte, insomma, aveva una faccia da morto, mi mangio la prova, la foglia è completa, sono per me, sono finito io. Io prendevo e mi buttavo sopra la piscerita. Buttarono sopra la piscerita e lui mi faceva prima a rafficare... Sul bambino, si è buttato sul bambino? Io sul bambino. Abbandonando il volante, naturalmente. Ho abbandonato la macchina. E la macchina che fece? Lui mi faceva prima a raffica, io non piglio le copie. No, no. Non mi faccia finire, signor Presidente. Dico, la macchina... L'abbandono, la macchina abbandono, cammina per i fatteriti. Quindi camminò e andò a sbattere? No, no, arrivò a non me a sapere. E si fermò? Lui mi doveva prima a raffica, prima che mi doveva prima a raffica, io ancora non avevo niente, non ero colpito. Mi sostituivo e poi ti pare la macchina. Mentre io talivo, loro stanno ritorno in anno, ritornano a cammino di cerita. Io arrivo a fare 100-150 metri e mi fermo davanti al bar, lo signor Pace. Si ferma davanti al bar del signor Pace. Arrivo là, mi fermo là e c'è un bambino che ci esce sanguera la faccia. Butto il bambino nella macchina e mi metto davanti al motore della macchina. Perché la macchina era un 127, era una macchina normalissima. Però già era tutta buchellata. Quando loro ritornano, mi continuano a parare di nuovo. Appena mi pararono, io mi ammuccia pure le ramacchie. Già il bambino l'ho buttato e rimango nella macchina. Perché io sono il capo, mi fregano. Mi firmavo, piglia pure voi, però appena loro sono arrivati, che c'erano la paciente, ci mi sa parare e ci ho tirato i cinque coppagame. Il Scarpuzzer l'ha pigliato, aveva giubile antiproietto, si abbandona, la motricella. Il Scarpuzzer è stato colpito? Colpito, perché era lui che fa l'operazione. E lei se ne è accorta che era stato colpito? Sì, perché sono fermo, io tirare la macchia col motore. No, dico, se ne è accorta in che... Come me ne accorgo? Perché quando io ce l'ho fatto, lui cade la muccia di Ciretta e va per terra. I colpi lui, invece di portarli sopra di me, li portava in una saracinezza, non me la siano, e a primo piano in un balcone. Come ha fatto? Perché l'ho preso e chiudono un tiro. E cioè, a questo punto io non ho più niente da fare. E c'ho macchina davanti e macchina di dietro. Davanti c'ho Fosso Maichese, davanti. Con BMW, metallizzato. E direci, c'ho un golf con c'è persona. Sto tolto Salvatore Cucuzza e un accettatore che non conosco. A questo punto vanno benferriciti con i pamenieri. Si carricaro il signor Creppuzzella, non BMW, e si sono sopportati. E questo era il mio attentato. E dopo una giornata sono venuto fuori che ero io, caricato nella macchina, ma avevano sequerciato. Questo è il mio attentato. Lei vide pure il Filippo Marchese. Si, Filippo Marchese con BMW avanti. Con BMW. Molinciano, Molinciano. Si, con Melinciano. Dopo vi cercavano di chiudere il nome mio, no? Nell'attimo. Si, di chiuderlo nel mezzo. Perché ci fevano di navetta davanti, fra BMW. Sì, un avvocato. Comunque stiamo traducendo, no? Non mi pare che lei non abbia capito tutto il racconto che abbia fatto, perché mi sembra abbastanza chiaro. Assistete qualcuno a tutta questa scena? Tante gente ce n'erano tante, però capirà un fattore del genere. Nessuno si è visto niente. Perché come infatti quando arriva la polizia, andato a cercare, non c'era la macchina. Non ero io a cercare, non è come ci avevo fatto. Arrivò, non c'era la macchina, c'erano le fotografie. E io vedevo tutta la scena che è successa. Lei dove se n'è andato? A pochi passi. Tutto l'operazione. Dopodiché? Dopodiché mi sono allontanato, è chiaro. Sì. 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 Sì.